L'antica astronomia dei Maya, l'almanacco Zulken. Il calendario Zulken, il cui nome significa divisione dei giorni, a differenza degli altri usati dall'antico popolo Maya, si presentava come un vero e proprio almanacco, ovvero con la presenza di informazioni aggiuntive, in questo caso, di carattere astronomico, astrologico, religioso e festivo, ed il suo simbolismo era presente anche nel libro della comunità, cioè nel Popol V. Il ciclo temporale che prendeva come riferimento era quello di 260 giorni, pari cioè, in primis, a quello della rivoluzione del pianeta Venere intorno al Sole, a circa 9 lunazioni, queste pari a 252 giorni, ad un intero periodo agricolo di semine raccolta del mais, adottato dagli antichi agricoltori nell'altopiano del Guatemala, ad un numero simile a quello di un periodo di eclissi, cioè di Saros, pari a 223 mesi sinodici, nonché al tempo di gestazione medio che la femmina umana richiede per concepire un bambino, ovvero 9 mesi dal primo periodo mestruale mancato e la nascita dell'infante. L'almanacco Zulken iniziò ad usarsi, secondo la maggioranza delle teorie attuali, a partire dal VI secolo a.C. tra gli zapotechi di Oaka, come riferimento per i rituali e anche di sacrificio umano, per le divinazioni da compiere e per i momenti più o meno idoni per iniziare o fermare una guerra. Infatti, il corpo celeste che oggi chiamiamo Venere era considerato dai mai alla manifestazione astrale di una divinità guerrera, cioè del serpente piumato, che proteggeva anche i sacerdoti, denominato Kukulkan. Strutturalmente il calendario Zulken era composto da un disco interno, diviso in 13 parti numerate, cioè in una trecena, accomunato al numero dei livelli del mondo celeste nei quali vivevano le divinità locali, nonché alle articolazioni umane, e da un cerchio esterno composto da 20 elementi, ognuno con un proprio nome associato ad alcuni loro dei e idee, nonché al sistema di conteggio maya che usava sia le 10 dita delle mani che le altrettante dei piedi. I nomi di queste 20 suddivisioni del disco esterno del ciclo Zulken generano. Au, associato al regnante, alla divinità solare e dal sole stesso, ovvero al gemello divino un axpu. Imisk, accomunato al coccodrillo e dalla pianta da fiore della ninfea. Ik, collegato al vento, al respiro, alla violenza e dalla forza interiore. Akbal, congiunto all'oscurità, al mondo sotterraneo e dalla notte. Kan, fuso all'atto del sacrificio, all'abbondanza, alla maturità e dalla lucertola. Kikan, unito al serpente cosmologico, cioè al celeste di Okukulkan. Cimi, associato alla morte. Manik, accomunato al cervo e dal dio della caccia. Lamat, collegato al coniglio, al pianeta venere, al tramonto, alle stelle, ai semi che germogliano e dall'evocazione della dea Asquik, con il nome di Iskkuanil, la quale, ricordo, generò i due gemelli divini, un axpue gebalanche. Muluk, congiunto alla giada, all'acqua, all'offerta nei confronti delle divinità, al pesce e dall'evocazione della dea Asquik, questa volta con il nome di Isktoi. Ok, fuso al cane che guidava, simbolicamente, il sole attraverso gli inferi durante la notte. Kuen, unito alla scimmia urlatrice, all'artigianato, alle arti dalla conoscenza. Eb, associato alla pioggia, alla tempesta e dall'erba. Ben, accomunato all'essere umano, alla crescita del maes ancora acerbo, al semigiovane e dalla canna. Isk, collegato al giaguaro, al sole durante la notte e dalla dea Iskel, la quale era accomunata all'ostetricia, alla medicina antica e dallo stesso giaguaro. Men, congiunto all'aquila, ovvero ai grandi uccelli, alla saggezza e dalla luna. Chib, rappresentante la cera, gli insetti, i piccoli e medi uccelli del giorno e della notte e l'anima. Kaban, unito alla terra, al terremoto, alla forza distruttiva e dall'energia delle stagioni. Et Znab, associato alla pietra focaia, al coltello, cioè alla lama diossidiana usata durante i sacrifici rituali. Kaunak, accomunato alle divinità del tuono, della tempesta, dei fulmini, ovvero i divini serpenti celesti. Avanzando i due diversi dischi, ogni 24 ore, di una sezione, i giorni che portavano lo stesso nome non si succedevano con la stessa numerazione progressiva, cosa che avviene, ad esempio, nei calendari nei quali le giornate sono racchiuse in mesi, ma questo si attuava solo secondo la posizione che avevano nel ciclo dei 13 giorni, ovvero con una sequenza 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13, 7. Ad esempio, nel primo ciclo di 13 giorni abbiamo Nel secondo ciclo di 13 giorni, invece In altre parole, le giornate con lo stesso nome e numero si ripetevano solo dopo un intero ciclo del calendario Zulken, ovvero ogni 260 giorni essendo, numericamente parlando, tale numero o il minimo comune multiplo tra 20 e 13, esaurendo in pratica ogni combinazione possibile tra nomi e numeri nello stesso arco temporale di un'intera rivoluzione del pianeta Venere intorno al Sole. Alle persone della comunità Maya, nonché alle altre dei popoli della Mesoamerica precolombiana che adottarono l'almanacco Zulken, veniva dato un nome associato a quello del giorno di nascita, visto che si credeva, secondo l'astrologia locale, che tutte le caratteristiche psicofisiche del nativo, nonché quelle sociali e lavorative, fossero accomunate a quelle associate a quel determinato arco temporale delle 24 ore. Tale tradizione è ancora oggi portata avanti in alcune comunità Maya, residenti negli altopiani del Guatemala, che, oltretutto, piantano il mais alla fine di aprile, ovvero all'inizio di maggio, e lo raccolgono il 13 agosto, giorno associato all'inizio dell'era Maya. Fanno iniziare, dagli anziani guatemaltechi, gli attuali divinatori del calendario, denominati Ajikiji, nei 260 giorni del ciclo Zulken, il quale, ricordo, è associato al periodo di rivoluzione siderale che il pianeta venere attua intorno al sole, nonché al tempo che le ostetriche dello stesso territorio iniziano a contare da quando il cuore di un feto inizia a battere fino alla sua nascita. Oltretutto, secondo l'astrologia locale, alcuni giorni del calendario Zulken vengono ancora presi in considerazione per attuare determinate azioni. Ad esempio, nel giorno Khan, associato anche alla prosperità, si tende a costruire o da riparare un'abitazione. Mentre in quelli Akbal e Ben, di numero basso, è saggio sposarsi perché il primo è associato all'influenza della notte ed il secondo alla generazione del mais, ovvero ai fanciulli. Ed infine, alcuni grandi rituali, ancora oggi attuati, sono eseguiti ogni 260 giorni, come quello di iniziazione di Otto Kuen, denominato Waxakib Bats, attuato nella città di Santa Cruz del Kiké. Concludo questo mio video sull'almanacco Zulken consigliando, per chi voglia approfondire, lo studio dei testi qui riportati.